Slancio di passione a ballando con le stelle tra la cantante e il suo insegnante di danza. Continua a far chiacchierare il bacio di Arisa e Vito Coppola a ballando con le stelle. Nel bel mezzo dell'esibizione una coreografia sulle note di Dirty Dancing il ballerino ha baciato la sua allieva. Un gesto che la cantante non si aspettava e che ha fatto emozionare i più romantici. Lo slancio di passione era del tutto improvvisato ma è chiaro che tra i due è nato un legame forte e unico. Pochi giorni dopo la sesta puntata dello show di Millie Carlucci Vito Coppola si è lasciato andare ad una romantica dedica sui social network a corredo del video che immortala il bacio con Arisa, è stata una serata particolarmente travolgente. Inaspettatamente magica. Ci stiamo godendo questo percorso ogni singolo giorno un post al quale Rosalba pipa questo il vero nome di Arisa ha replicato con un cuoricino. Insomma, se son rose fioriranno. Ni. Pare infatti che Vito Coppola sia fidanzato da tempo. Come riporta Today il campione di danza sarebbe legato da anni ad una ragazza di nome Valentina. Una ragazza anche lei originaria di eboli come Vito Coppola che non avrebbe nulla a che fare con il mondo del ballo e dello spettacolo in generale. Valentina sarebbe laureata in tecniche di laboratorio biomedico. I due non appaiono però insieme sui social dal 2018, riservatezza o rottura. Nel frattempo Arisa ha commentato il flirt con Vito Coppola durante la presentazione stampa del suo ultimo album. La trentotenne ci è andata con i piedi di piombo, se son rose fioriranno, ma non penso. Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all'amore. Rattere un'intenziale, ma non solle. Un'intenziale, ma non solle. La trentotenne, è un'intenziale, ma non solle.